Quindi, fratelli e sorelle nel Signore, oggi il titolo del messaggio che voglio portarvi è questo. Satana ha chiesto di vagliarvi. Nell'esaminare, insomma, quello che sta succedendo in mezzo a noi oggi in questa nazione, ritengo che anche questo serva per, diciamo, collegare i fatti di attualità a quello che è scritto nella parola. Cominciamo dal titolo. Il titolo lo troviamo scritto nel Vangelo di Lucca. Satana ha chiesto di vagliarvi. E lo troviamo, lo troviamo scritto poco prima, in un momento storico del nostro Signore Gesù Cristo, che è questo. Si stava apprestando il momento perché Gesù venisse arrestato e quindi andare al supplizio, al sacrificio, alla tortura e al sacrificio. Prima di essere arrestato fa un discorso Gesù a Pietro, però riguarda tutta la Chiesa, tutti i discepoli. Il discorso lo fa a Pietro, ma poi vediamo che usa il plurale. Quindi il discorso lo fa direttamente a Pietro, ma riguarda tutta la Chiesa. Capitolo 22 del Vangelo di Lucca. Aprite le scritture e leggete. Io ho piacere che quando, non solo quando lo faccio io, ma qualsiasi persona vi porti un messaggio delle scritture, e voi aprite la Bibbia, perché se viene saltata anche una virgola, anche una parola, perché purtroppo ci sono di quelli apro questa parentesi, adesso mi è venuta in mente, perché ci sono di quelli che vi leggono i passi delle scritture monchi, cioè tagliando e saltando dei pezzi e delle parole. Ad esempio, uno mi disse una volta che lessero il passo in Alfesini, dove c'è la parola predestinazione, e hanno saltato quella parola, un pezzettino dove c'era anche la parola predestinazione. No, i passi, attenzione. Certo, non si possono citare capitoli interi talvolta, però il passo non gli si può dare, non si possono nascondere determinate parole. E chiudo qui questa parentesi. Quindi desidero che quando uno ascolta la parola, io lo faccio, e voglio che anche gli altri lo facciano. Quando si ascolta la parola ci deve essere la Bibbia, quella di carta, quella di carta, perché quando saremo in fuga da una città all'altra non abbiamo il tempo di avere i mezzi elettronici attaccati alla corrente. No, quindi comunque la Bibbia di carta ce la dovremmo portare sempre. Aprite la parola, capitolo 22, al versetto 31 del Vangelo di Lucca. Gesù disse queste parole a Pietro, però riguarda tutta la Chiesa. «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di vagliarvi. Come si vaglia il grano? Ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno». E da qui ho tratto il titolo «Satana ha chiesto di vagliarvi». Io sono sicuro che non tutti sanno cosa vuol dire vagliare il grano. E oggi voglio parlarvi di questo, però andiamo per gradi. Gesù dice, si rivolge a Pietro e gli dice «Ecco, gli sta dicendo qualcosa di particolare». «Ecco, Satana ha chiesto». C'è qualcuno, quindi, che ha chiesto di vagliare la Chiesa, di metterla duramente alla prova. E chi è questo? Questa persona. Ci tengo oggi a dirvi che Satana è un essere vivente, esiste, è stato creato da Dio. Non è un essere astratto, il male in genere, no? Perché qualcuno non crede all'esistenza di Satana, eh no? Satana è un essere vivente, un angelo decaduto. Un angelo che ha lasciato la sua dignità di angelo che serviva a Dio ed è diventato il nemico di Dio. Infatti Satana significa il nemico. Il nemico di chi? Sì, di Dio e anche della Chiesa di Dio. È il nemico di tutti quelli che servono a Dio e adorano a Dio. Satana. Quindi dobbiamo sapere che c'è anche un nemico particolare, un angelo decaduto dalla sua dignità che aveva nei cieli e che adesso svolge un compito, soprattutto qui sulla Terra, che è quella di sedurre, di distruggere, di ingannare, di portare alla distruzione più gente possibile, se riesce a sedurli. E se fosse possibile, lui cerca di sedurre anche i santi, gli eletti, se gli fosse possibile. di Satana, che ha diversi nomi, viene chiamato nelle scritture in diverse maniere, viene chiamato il diavolo. Cosa significa il diavolo? Vuol dire il calunniatore che colpisce alle spalle. Infatti si serve della menzogna, si serve degli inganni più subdoli pur di raggiungere il suo scopo di attaccare e distruggere la verità, di sostituirsi a Dio nell'adorazione in tutti i modi. Poi viene chiamato il serpente antico, quel serpente che sedusse Eva. Il dragone, il sedutore, ha diversi nomi. Il maligno, viene chiamato anche il maligno, perché lui effettivamente rappresenta il male. Il male però è una persona, quindi lo incarna praticamente il male. Il male è la massima espressione di un essere vivente malvagio. Di lui, di Satana, si parla, ecco un altro nome con cui viene chiamato Satana, viene chiamato anche Lucifero. nelle scritture viene presentato come un angelo potente, glorioso, creato da Dio, che era un astro mattutino, cioè Lucifero, cioè colui che porta la luce. e leggiamo come si parla di questo angelo nel profeta Ezechiele al capitolo al capitolo 28. Mentre parla del re di tiro, ma in realtà il profeta sta parlando del re di tiro, ma si sta riferendo, si riferisce nelle sue parole e in verità si riferisce a quest'angelo decaduto che adesso lo leggiamo come il profeta Ezechiele lo ha descritto. Quindi, capitolo 28 del profeta Ezechiele dal versetto 11 leggiamo E la parola dell'Eterno mi fu rivolta in questi termini. Figlio al Duomo pronunzia una lamentazione sul re di tiro e digli Così parla il Signore l'Eterno Tu mettevi il suggello alla perfezione Eri pieno di saviezza di una bellezza perfetta Eri in Eden il giardino di Dio Eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose rubini topazzi diamanti crisoliti onici diaspri zaffiri carbonchi smeraldi oro tamburi e flauti erano al tuo servizio preparati il giorno che fosti creato Eri un cherubino dalle ali distese un protettore io ti avevo stabilito tu stavi sul monte santo di Dio camminavi in mezzo a pietre di fuoco tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato perché non si trovò in te la perversità per l'abbondanza del tuo commercio tutto in te si è riempito di violenza e tu hai peccato perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire o cherubino protettore di mezzo alle pietre di fuoco il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore io ti getto a terra ti do in spettacolo ai re con la moltitudine delle tue iniquità con la disonestà del tuo commercio tu hai profanato i tuoi santuari ed io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori e ti riducco in cenere sulla terra in presenza di tutti quelli che ti guardano allora fino a qui i passaggi scritti dal profeta Ezechiele quindi qui il Dio ci fa sapere che Satana chiamato qui individuato come il re di Tiro ma sta parlando di un cherubino chi è questo cherubino che è stato distrutto un cherubino che aveva cioè che è stato diciamo allontanato che è stato che è decaduto dalla sua dignità questo cherubino è appunto Lucifero che noi oggi chiamiamo Satana riconosciamo come Satana ci tengo a precisare che Lucifero cioè colui che ha portato la luce no? Lucifero viene adorato dai massoni da molti massoni magari ci sarà qualcuno che non adora Lucifero tra i massoni comunque sia non adora nessuno adora il Dio nessuno adora Gesù Cristo ma molti massoni adorano Lucifero vedete Satana il diavolo che dicono che ha portato la luce no? è Satana che ha portato la luce cioè è Lucifero e di Lucifero guardate cosa dice il profeta dice tu mettevi guardate le caratteristiche gloriose splendenti potenti che aveva questo angelo perché effettivamente era un angelo che aveva un potenziale una bellezza delle cose particolari qui lo descrive dice tu mettevi il suggello alla perfezione cioè allora innanzitutto nessuna creatura è perfetta davanti a Dio però se c'era qualcuno che poteva avvicinarsi in maniera particolare alla perfezione ecco questo era appunto era Lucifero poi dice eri pieno di saviezza ma non solo quindi era fatto in un certo modo ma era pieno di saviezza e di una bellezza perfetta quindi era veramente era veramente un angelo un cherubino che era veramente glorioso ed era anche pieno di saviezza non solo era bello e rasentava la perfezione metteva il suggello alla perfezione però cosa è successo quando è caduto in disgrazia guardate dice di lui dice di lui il tuo cuore quindi al versetto 17 il tuo cuore si è fatto altero cioè la sua bellezza la sua saviezza l'ha portato a inorgoglirsi a insuperbirsi infatti poi leggiamo anche dal profeta alcuni passaggi dal profeta Isaia lui cosa ha fatto lui è voluto essere simile all'altissimo il suo peccato di superbia di alterigia si è insuperbito voleva essere uguale a Dio più di Dio anche se aveva delle caratteristiche potenti e gloriose pure pure non era Dio non era minimamente da assomigliare a Dio però però lui si è corrotto capite con la sua alterigia per la sua bellezza lui ha pensato di essere di essere simile a Dio simile all'altissimo e poi dice tu hai corrotto la tua saviezza dopo quando uno pecca quando uno si svia può avere anche era un cherubino abbiamo letto prima che aveva era pieno di saviezza era pieno di sapienza ma nel momento in cui pecca questa sapienza si corrompe cioè si guasta capite quella saviezza di cui era dotato Lucifero si è guastata con il suo peccato a motivo appunto del suo inorgoglimento di lui leggiamo appunto andiamo adesso al profeta Isaia Isaia che ne parla al capitolo 14 dal versetto 12 di lui sta parlando sempre di Lucifero nel profeta Isaia vengono scritte queste cose 14 12 del profeta Isaia come mai sei caduto dal cielo o astro mattutino ecco Lucifero vuol dire appunto astro mattutino colui che porta la luce cioè praticamente sarebbe la prima la prima stella splendente che tu vedi quando comincia la luce del mattino vedi questa stella no capito questo sarebbe il senso figliolo dell'aurora o astro mattutino figliolo dell'aurora come mai sei atterrato tu che calpestavi le nazioni tu dicevi in cuor tuo io salirò in cielo e leverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio io mi assiderò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione salirò sulle sommità delle nubi sarò simile all'altissimo invece ti hanno fatto discendere nel soggiorno dai morti nella profondità della fossa invece lui si inorgoglì voleva essere in alto più in alto di tutto e di tutti voleva essere simile all'altissimo capite e non era questo non era per questo che era stato che era stato creato questo protettore cherubino lui si inorgoglì era anche pieno di saviezza ma si è corrotto con il suo peccato di superbimento di orgoglio la sua alterigia la sua superbia lo ha lo ha portato a peccare a corrompersi e quindi anche la sua saviezza si è corrotta si è guastata spiritualmente si è guastata infatti ora essendo pieno di saviezza essendo stato creato pieno di saviezza lucifero che ora noi lo chiamiamo satana il nemico il nemico di dio e il nemico anche della chiesa il nemico dell'anima nostra usa quella pienezza di saviezza quella piena saviezza che si è corrotta comunque la utilizza in tutti i modi per sedurre per sedurre gli uomini per ingannare per ingannare diciamo tutte le persone e portarle alla distruzione in apocalisse si parla di lui in questa maniera andiamo anche in apocalisse si parla del di satana del nemico di lucifero dell'angelo che è decaduto capitolo 12 di apocalisse dal versetto 9 e il gran dragone il serpente antico che è chiamato diavolo e satana il sedutore di tutto il mondo fu gettato giù fu gettato sulla terra e con lui furono gettati gli angeli suoi vedete come viene descritto naturalmente questa descrizione qui deriva da un evento che deve ancora avvenire intanto il diavolo non ha trovato più posto diciamo nel terzo cielo cioè non è più il suo posto dove deve stare là dove c'è il trono di Dio può parlare può contattare Dio questo è vero però però non può più stare lì in quel posto nel terzo cielo è decaduto da quelle ma non solo poi decadrà sarà gettato completamente sulla terra sarà gettato e dovrà rimanere sulla terra ecco questo evento con una che avverrà con una battaglia che avverrà nei cieli satana sarà il dragone il diavolo il serpente antico sarà gettato sarà gettato nella terra e da lì che per la sua potenza la sua forza che poi verrà l'anticristo la bestia e il falso profeta questo evento però deve ancora avvenire nei cieli questa battaglia deve ancora esserci e quindi ancora non è avvenuto non è avvenuto però lo descrive così io ho citato questo passo per farvi vedere come viene descritto viene chiamato appunto il gran dragone il serpente antico no? il serpente antico che sedusse Eva quindi il seduttore è chiamato anche diavolo e satana è diavolo perché è un calunniatore quindi tutti tutti i servi del diavolo usano la calunnia come mezzo come uno dei mezzi per attaccare i veri servitori di Dio e non c'è solo chi calunnia ma c'è anche chi ascolta la calunnia che sono pericolosi nella stessa maniera quindi bisogna sempre opporsi alle calunnie alle accuse le accuse che quando si muovono delle accuse verso un fratello verso tutti i fratelli è importante ma se si muove un'accusa verso un servitore di Dio a maggior ragione deve essere provata se io dico che quel fratello è un adulto era un fornegatore un assassino devo provarlo perché le critiche si possono fare le accuse si possono fare ma devono essere fondate se non sono fondate sono calunnie e il calunnatore è il diavolo quindi noi fratelli noi credenti non dobbiamo né calunniare ma neanche ascoltarle le calunnie dobbiamo bloccarle sul nascere e se no facciamo facendo girare le calunnie noi facciamo il lavoro del diavolo capite? bisogna bloccarlo questa è una delle opere che compie il diavolo e che noi dobbiamo opporci a queste macchinazioni del diavolo il seduttore il seduttore di tutto il mondo vedete viene chiamato anche il seduttore cioè colui che con l'inganno cerca di farti fare una cosa di farti credere qualcosa questa è la seduzione e ci provò anche con Gesù a sedurlo ci provò anche con Gesù e leggiamo leggiamo cosa successe questo passo prendiamo solo una delle tentazioni fatte dal diavolo a Gesù perché serve questo? per farci capire cosa vuole Satana qual è l'obiettivo? l'abbiamo già letto anche nei libri dei profeti no? che voleva essere simile all'altissimo ma guardate qui il suo desiderio principale qual era andiamo al Vangelo di Matteo al capitolo 4 al versetto 8 quindi stiamo parlando che Gesù aveva digiunato per 40 giorni dopo essere stato battezzato in acqua da Giovanni Battista questo è lo scenario il contesto in cui si muove questo versetto Gesù era nel deserto digiunava e fu tentato in diversi modi da Satana una delle tentazioni è questa al capitolo 4 del Vangelo di Matteo dal versetto 8 di nuovo il diavolo lo menò seco sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse tutte queste cose io te le darò se se prostrandoti tu mi adori vedete questo è quello che vuole quello a cui aspira la sua sapienza saviezza corrotta la sua superbia il suo orgoglio la sua alterigia lo portano a sentirsi a voler essere a voler essere simile all'altissimo quindi lui desidera e vuole essere adorato come ha adorato il Dio capite addirittura avanza questa richiesta nei confronti di chi l'ha avanzata nei confronti anche di Gesù la risposta di Gesù naturalmente sempre legata alla parola e alla volontà del padre lo ha diciamo bloccato non gli ha dato spazio di continuare non gli ha dato adito a nulla gli ha detto va Satana poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e da lui solo rendi il culto vedete bisogna conoscere le scritture perché adesso questa è conosciuta questo tipo di tentazione di seduzione del diavolo ma ce ne sono tante altre oggi quale può essere la seduzione vaccinati se no perdi il lavoro capite e cosa c'è nel vaccino c'è la maledizione della morte di difetti che sono stati abortiti torturati e sono stati fatti degli esperimenti quando ancora erano vivi c'è la maledizione dentro dentro quei sieri che oggi sono anche sperimentali la sperimentazione non si è conclusa quindi perderai il lavoro potrai avere da mangiare capite offre la seduzione del diavolo ecco poi ci sono quei fratelli che sono caduti nella trappola che frequentano certe comunità non sono stati messi in guardia non sono stati messi in guardia e e sono caduti in questo peccato si sono contaminati con la maledizione della morte di delle persone capite e questo questo non va bene non va assolutamente bene e è proprio il diavolo quindi che moltiplica il male che spinge seduce distrugge fa del male dovunque esso ormai è completamente corrotto è talmente corrotto che non ha neanche più la lucidità di riconoscere determinate cose lui volendo essere simile all'altissimo si applica in tutte le maniere nella sua corruzione ad ottenere questo a sostituire Dio a combattere contro Dio si è talmente corrotto da non avere più la lucidità non prende più le cose come realmente devono essere prese come facciamo noi credenti attraverso le scritture la realtà dei fatti noi li abbiamo ben presenti sia quelli passati ma anche quelli futuri di cui abbiamo avuto rivelazione da Dio attraverso le sacre scritture ebbene le conosce pure lui ma la sua corruzione non gli permette di vederle come le vediamo noi e vuole a tutti i costi distruggere tutto praticamente soprattutto la sua chiesa la chiesa di Dio vuole distruggere soprattutto la chiesa di Dio non vuole assolutamente che nessuno abbia comunione con Dio e che alla fine della sua vita giunga là in quel cielo dove lui non ha più posto adesso ma questa di Satana abbiamo visto alcune cose alcune opere che lui compie ma ora andiamo subito alla fine che farà eh sì perché è buono anche sapere anche che fine farà andiamo a leggere lo leggiamo sia dal Vangelo di Matteo andiamo a leggere il capitolo 25 leggiamo al versetto 41 leggo il versetto 41 il contesto è questo quando ci sarà il giudizio no? le pecore che sono alla destra di Gesù e quelle che sono alla sinistra ecco adesso sta parlando quelle che praticamente non saranno salvate e gli dice queste parole allora dirà anche a coloro dalla sinistra andate via da me maledetti nel fuoco eterno preparato per il diavolo e per i suoi angeli vedete quindi il Dio cosa ha preparato ha preparato un luogo dove c'è un fuoco che arderà per l'eternità un luogo di tormento che chi ci andrà in quel luogo di tormento che noi sappiamo che è lo stagno di fuoco e di zolfo in quel luogo di tormento ci andrà il diavolo i suoi angeli e anche tutti i suoi servitori e tutti gli empi e tutti quelli che saranno perduti saranno rigettati in questo in questo fuoco eterno in Apocalisse viene scritto il momento in cui il diavolo viene proprio gettato questo per farvi capire che il nostro nemico cerca in questa vita di danneggiarci di farci del male di farci cadere ci scaglia contro i nostri parenti i nostri colleghi tutti tutti diciamo quelli che li può muovere li muove contro il popolo dell'iddio vivente è vero però non dobbiamo mai dimenticare è vero che li muove contro di noi ci fa soffrire ci sentiamo maltrattati ma è anche vero che noi conosciamo qual è sarà la sua fine e questo ci deve rincuorare perché alla fine noi avremo la vittoria e lui avrà la sconfitta il nostro nemico sarà sconfitto e questa sarà la fine che lui farà capitolo 20 di Apocalisse dal versetto 7 e quando i mille anni saranno compiti Satana sarà sciolto apriamo sì il contesto praticamente quando Gesù ritorna Satana una delle cose che succederà sarà che Satana sarà incatenato e rimarrà legato in un abisso per mille anni poi sarà slegato e lui andrà di nuovo a sedurre le popolazioni alcune popolazioni che saranno rimaste e che le muoverà contro Gesù contro la città santa contro i servitori di Dio e quando i mille anni saranno compiti Satana sarà sciolto dalla sua prigione e uscirà per sedurre le nazioni che sono ai quattro canti della terra Gog e Magog per adunarle per la battaglia il loro numero è come l'arena del mare e salirono sulla distesa della terra e attorniarono il campo dei santi e la città di Letta ma dal cielo discese del fuoco e le divorò e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono anche la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli è vero che sta facendo tanto male è vero che adesso noi soffriamo ma questa è la fine che dobbiamo sempre ricordare che farà il nostro nemico i nostri nemici faranno questa fine saranno gettati nel tormento nello stagno di fuoche di zolfo e in quello stagno lì ci sarà un fuoco eterno che brucerà e saranno tormentati giorno e notte guardate bene giorno e notte saranno tormentati quindi noi dobbiamo perseverare fino alla fine dobbiamo resistere al diavolo resistetti al diavolo bisogna resistere al diavolo per mezzo della fede ed egli fuggirà da noi dobbiamo alzare lo scudo lo scudo della fede che ferma tutti gli attacchi i dardi infuocati del diavolo perché attenzione siamo in guerra il diavolo i dardi infuocati ce li lancia ci vuole distrutti ci vuole morti ci vuole caduti capite e noi invece non dobbiamo resistere in piedi come un buon soldato di Cristo perché abbiamo la vittoria in Cristo Gesù e lui ha già la sconfitta è già stata scritta la sua sconfitta insieme a tutti i suoi angeli insieme a tutti i suoi servitori insieme a tutti gli uomini malvagi e anche insieme andranno ad essere gettati nello stagno di fuoco e di zolfo anche quei cosiddetti credenti che non avranno perseverato nella fede sino alla fine saranno là tutti insieme e noi è proprio da lei che dobbiamo scampare dobbiamo scampare da questa ira dell'iddio vivente vero scampare come rimanendo fermi nella fede sino alla fine compiendo le opere che il Signore ci chiede di compiere stando lontani dal peccato il più possibile santificandoci e facendo tutto quello che un credente deve fare e che gli è richiesto di fare dal Signore perseverando sino alla fine perché dobbiamo perseverare sino alla fine per scampare appunto a queste cose una delle cose che dobbiamo fare appunto è combattere rimanendo fermi nella fede combattere contro il diavolo ora voglio parlarvi di alcune opere che siccome ancora questo non è avvenuto non è avvenuto che ancora il diavolo sia gettato nello stagno di fuoco di zolfo quindi è ancora libero e opera passeggia per la terra per compiere la sua opera di seduzione e di distruzione tra le opere che il diavolo compie ci sono anche queste che oggi voglio parlarvi voglio ricordarvi ad esempio leggiamo prendiamo il libro di Giove ai primi capitoli quando l'Eterno parlando con Satana gli mostra Giove gli mostra Giove gli dice non c'è un uomo gli dice l'Eterno gli dice a Satana hai tu notato il mio servo Giove capitolo 1 versetto 8 di Giove hai tu notato il mio servo Giove non c'è né un altro sulla terra che come lui sia integro retto tema il Dio e fugga il male e Satana rispose all'Eterno e egli forse per nulla che Giove teme il Dio non l'hai tu circondato d'un riparo lui la sua casa e tutto quello che possiede tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese il Dio essendo un uomo giusto integro Giove il Dio l'aveva benedetto l'aveva fatto prosperare però guardate adesso le parole che dice Satana questo per far capire anche questo ci fa capire come Satana agisce cosa vuole e qual è il suo intento capite dice ma stendi un po' la tua mano quindi si rivolge verso l'Eterno parlando di Giove dice ma stendi un po' la tua mano tocca quanto a egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia vedete gli fa questa richiesta Satana ha richiesto questa cosa contro di Giove non che la cosa venga da Satana è sempre l'Eterno che vuole mettere alla prova Giove capite e si serve anche di questo essere malvagio infatti non è forse scritto che sia il male che il bene provengono dall'Eterno e altrimenti altrimenti se Dio non permetteva che un certo male avvenisse sulla Terra non avverrebbe capite e qui in questo caso però Dio si serve di Satana Satana come ragiona lui non vede non vede l'ora di fare del male ai servi integri del Signore e dice mette in dubbio la fede mette in dubbio la perseveranza e la fedeltà di Giove verso il Signore e dice se tu gli tocchi praticamente i beni che lui ha lui ti rinnegherà in faccia cioè non ti si pentirà di averti conosciuto dirà che non ti ha conosciuto più se tu gli togli la benedizione come dire che Giove serve il Dio solamente perché gli sta dando da mangiare capite che lo sta facendo prosperare ecco qui in queste accuse accuse che muove Satana noi vediamo come ragiona lui capite come ragiona quali sono le accuse che muove Satana verso e sono accuse fini sono accuse che uno a quel punto noi che conosciamo la storia di Giove ma se noi non conoscessimo come tutte le cose che sono scritte nel libro di Giove se leggessimo solo queste accuse qualcuno direbbe ma veramente non sappiamo quale sarebbe la reazione di Giove capite e la stessa cosa la chiede anche la chiede anche per altri servitori di Dio la chiede per tutti i credenti per tutta la chiesa come oggi sta facendo sta chiedendo appunto di mettere alla prova di vagliare la chiesa fino a dove riusciamo ad arrivare per dire come dire si potrebbe sentire in questa maniera la voce la voce di Satana le parole di Satana potrebbero essere in questa maniera applicandole alla situazione di oggi prova a togliere il lavoro a questi che si dicono credenti oggi e vedrai come si fanno tutto pur di continuare a mangiare a lavorare capite queste ti rinnegheranno sono stati si sono santificati perché non hanno rischiato nulla fino adesso ma prova a metterli vediamo se tu li lasci li metti alla prova vediamo quanto tempo resistono e non si prostrano anche loro per mangiare o per stare per non perdere quello che hanno costruito fino ad oggi e tutta la chiesa vedete è messa a dura prova in un modo in un altro si stanno coinvolgendo tutti la chiesa ma non solo la chiesa italiana anche le chiese delle altre nazioni quindi questa è una richiesta di satana di vagliare tutta la chiesa dell'iddio vivente ed è una cosa comunque utile una cosa utile comunque che adesso andiamo a vedere andiamo a vedere quindi che questo di vagliare questo di provare la chiesa è una cosa che satana richiede a dio e torniamo adesso ripartiamo dal versetto che abbiamo citato per costruire il titolo satana ha chiesto di sbagliarvi e adesso lo lo riprendiamo per spiegare anche alcune cose simone quindi stiamo di nuovo in capitolo 22 di luca dal versetto 31 simone simone ecco satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno qual'era la situazione la situazione è questa che gesù stava per essere arrestato doveva subire la persecuzione essere malmenato e poi ucciso ucciso dagli ebrei per mano dei romani chi uccise Gesù sono stati la mano era quella dei romani ma la morte di Gesù fu provocata dai giudei quindi chi uccise Gesù lo uccisero i giudei per mezzo della mano dei romani così abbiamo definito anche chi uccise Gesù cosa è scritto a riguardo di questo evento è scritto che percuoteranno il pastore e le pecore saranno disperse eh sì cosa è successo è successo che Gesù è stato imprigionato Gesù è stato perseguitato ma intanto le pecore si sono disperse una di queste pecore che è Pietro qui Gesù quindi Satana aveva chiesto appunto di vagliare queste queste la chiesa i discepoli di quel di quel eh i discepoli di Gesù perché guardate qui è scritto è vero che Gesù si rivolge a Simone cioè a Simon Pietro dice Simone Simone ecco Satana ha chiesto di vagliarvi vedete il plurale quindi non sta non ha non ha scritto solamente ha chiesto di vagliarti a te Pietro ma tutta la chiesa a tutta la chiesa ha chiesto Gesù parlava a Pietro ma si rivolgeva a tutta la chiesa e quindi sarebbe stata sottoposta tutta la chiesa a una grave prova a una grande prova difficile dove rischiavano anche la vita rischiavano di essere incarcerati anche loro insieme a Gesù Pietro questa prova non la vinse perché c'è scritto eh al versetto 33 ma egli gli disse signore con te sono pronto ad andare anche in prigione alla morte gli disse Pietro a Gesù e Gesù invece gli disse Pietro io ti dico che oggi il gallo non canterà prima che tu abbia negato tre volte di conoscermi vedete Pietro tutto baldanzoso prima dice io insieme a te sarò imprigionato e andrò anche alla morte invece cosa ha combinato ha rinnegato tre volte di conoscere Gesù quindi Pietro vedete come anche altri che sono scappati tutti non si è trovato nessuno a soffrire con Gesù in quel momento quindi sono stati vagliati in quel momento sono stati vagliati e hanno perso hanno sbagliato Pietro l'ha rinnegato ha rinnegato di conoscerlo tre volte addirittura e quindi infatti si è dovuto ravvedere e pentire amaramente di quello che Pietro ha sbagliato però guardate anche al versetto 32 però Gesù dice sapendo che Pietro sarebbe stato provato e sarebbe caduto perché effettivamente erano deboli nella fede non erano neanche riempiti di spirito santo non avevano le forze spirituali ancora di reggere fortemente una persecuzione quindi c'è da capirli che non erano preparati e forti per sopportare le persecuzioni va bene e quindi furono dispersi così la chiesa in quel momento fu dispersa Gesù a Pietro gli dice ma io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno comunque sia anche se hanno perso anche se hanno fallito nel superare questa prova perché Satana ha chiesto di vagliarli cioè cosa significa vagliare bisogna anche capire questa procedura che veniva utilizzata forse in qualche posto qui forse in qualche posto della terra viene ancora utilizzata però funziona così funzionava così i contadini quelli che 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 seminavano il grano poi lo raccoglievano bisognava che il grano dovesse essere separato dalla pula e da tutte le impurità quindi si sceglievano un 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 posto in campagna che veniva chiamato laia infatti c'è scritto anche quel passo vi ricordate che Gesù ha in mano il suo ventilabbro per nettare interamente laia sua vi ricordate ecco allora cosa è il ventilabbro cosa cosa significa vagliare come si vaglia il grano significa mettere diciamo tutto quello che è stato raccolto vabbè il grosso che potevano togliere dove non c'era grano l'avranno già fatto a mano però quello che diciamo quando la parte che è mischiata insieme impurità pula che sono i fili i fili i gambi che tenevano la spiga capite delle cose che erano comunque mischiate al grano si mettevano in quest'aia in questa era un appiattimento di terra una zona ben delineata di terra dove era ventilata cioè c'è un passaggio di vento di aria cosa facevano col ventilabbro cioè con le pale con delle pale particolari sollevavano i mucchietti e le parti leggere la pula col vento che soffiava veniva portato via la pula viene portata via e ricade a terra il grano che era un po' più pesante quindi a forza di fare tutto questo cosa succedeva che nell'aia rimaneva il più possibile il grano e la pula era stata portata via dal vento è stata portata via dal vento quindi c'è stata la separazione vedete naturalmente poi ancora lì c'è altre procedure per purificare il grano perché dopo il grano doveva arrivare alla macina doveva arrivare alla macina più pura possibile perché dopo quando si schiaccia la farina se non ci sono impurità capite la farina è migliore poi si usava anche un contenitore che si dice sempre vagliare il grano nel senso c'è un contenitore in cui ha dei forellini con un arretto e i forellini si muove il grano si mette lì dentro e tutti i pezzettini piccoli quelli che non sono il grano che non sono grano appunto cadevano a terra quindi attraverso diverse procedure vedete si vagliava il grano cioè si separava la pula dal grano e questa è una cosa positiva per la chiesa perché perché la scrittura dice ad esempio che gli empi sono come la pula e la pula viene viene gettata viene gettata questo lo dice dovrebbe dirlo vediamo un passo prima in luca al capitolo si al capitolo 3 del vangelo di luca versetto 17 dice egli ha in mano il suo ventilabbro per nettare interamente la Yasua e raccogliere il grano nel suo granaio ma quant'è alla pula la brucerà con fuoco inestinguibile quindi la pula che nel salmo 1 c'è scritto che gli empi sono come la pula cioè i malvagi sono come la pula non sono come il grano cioè non servono capite a cosa serve la pula ad essere bruciata qui in questo caso però parlando di fuoco inestinguibili ci sta dicendo che la pula sono quella parte che sono comunque in mezzo alla chiesa che sono o empi o comunque gente che non ci deve stare quindi Satana quando chiede di vagliare il grano quando chiede di vagliare la chiesa cioè quando Satana chiede di vagliare la chiesa che è rappresentata dalla figura della vagliatura del grano significa che saranno dopo questa vagliatura si sarà divisa la pula dal grano quindi saranno divisi saranno separati ben definiti quelli che sono che fanno parte veramente del popolo di Dio della chiesa dell'iddio vivente quelli che rimarranno fermi da quelli invece che o non fanno parte del popolo di Dio perché non si sono mai convertiti e sono degli empi o perché sono ribelli e non rimangono fermi nella fede saldi nella fede e quando quando avviene questa vagliatura questa prova generale che colpisce la chiesa come poi sta avvenendo oggi ecco che c'è la suddivisione tra quelli sono suddivisi si vede la differenza tra quelli che temono Dio e rimangono fermi nella fede nella verità a qualsiasi costo da quelli invece che si sono venduti subito che si sono fatti subito il vaccino capite è questa che sta avvenendo oggi sulla terra su tutta la terra poi badate bene è una grande vagliatura della chiesa dell'iddio vivente e vero che l'abbia chiesto Satana o no questo poco ci interessa perché se ci sta provando direttamente il Signore e per noi è uguale comunque sia i santi devono rimanere rimanere fermi saldi nella fede non si devono smuovere perché questo segnerà la differenza tra il grano è la pula capite tutti quelli che sono corsi a vaccinarsi sono pula ma che so credenti quelli capite magari sono andati anche a vaccinarsi senza avere l'obbligo magari io posso capire di più uno vabbè ma se non lavoro non mangio mi hanno obbligato posso anche capire uno che cade in questa maniera però quello che non capisco è quelli che senza obbligo per paura del virus si sono precipitati a farsi questi sieri sperimentali che poi tra l'altro possono anche fargli del male portargli addirittura alla morte come per qualcuno è successo tra i credenti quindi in mezzo a questa prova comunque sia abbiamo due due cose da tenere presente che dobbiamo rimanere fermi nella fede sapendo che come è scritto in romani adesso leggiamo in romani è scritto romani 8 834 è scritto Cristo Gesù è quello che è morto e più che questo è risuscitato ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi questo dobbiamo ricordarlo sempre che Gesù è alla destra del Padre ed egli intercede per noi infatti a Simon Pietro cosa gli ha detto io pregherò per te affinché la tua fede non venga meno noi abbiamo perché noi poi siamo carne e polveri siamo deboli siamo nella carne però dobbiamo sempre ricordarci che abbiamo presso il Padre alla sua destra Gesù Cristo che intercede per noi egli prega per noi intercede per noi egli è la propiziazione per i nostri peccati quindi egli può sia aiutarci affinché la nostra fede non venga meno come ha fatto per Pietro anche se poi insomma ha sbagliato e quindi questo intercede però attenzione si può anche vedere come un perdono cioè se noi comunque abbiamo fallito non abbiamo raggiunto l'obiettivo abbiamo sbagliato e ci pentiamo e ci ravvediamo e riconosciamo di aver sbagliato Gesù è sempre lì che intercede presso il Padre per noi quindi chiederà che il Signore Dio abbia pietà di noi che abbiamo sbagliato se ci siamo ravveduti però se uno si ravvede perché se uno si indurisce allora l'intercessione su quel peccato non funziona per gli altri invece Gesù è là che intercede e a cosa gli chiediamo che ci dia la forza di superare tutte le nostre prove tutte le nostre difficoltà tutta quella ondata di questi eserciti che ci vogliono travolgere e distruggere perché noi sì siamo carne e polvere ma il Dio nostro è potente ci può liberare egli è potente da liberarci quindi vedete se ce la facciamo a superare la prova gloria a Dio dobbiamo essere contenti perché il Signore ci fortificherà ne usciremo più forti dopo tutto questo questa battaglia questo vagliare questa prova ne usciremo più forti però se ci dovesse essere qualcuno che purtroppo non ce l'ha fatta a superare la prova e si è lasciato andare comunque non è mai come commettere un peccato che mena morte quindi pregherà il Signore si deve pentire ravvedere di aver sbagliato e chiedere al Signore che interceda presso il Padre per avere misericordia di Lui quindi questo fratelli e sorelle era un messaggio che volevo rivolgerci oggi rivolgervi oggi sia per farvi conoscere come opera chi è e come opera Satana il nemico della Chiesa e di Dio e per farvi sapere anche che non è a caso che a volte attraversiamo delle sofferenze e delle prove perché il Signore ci mette alla prova e dopo ne usciremo più forti anche perché può darsi che Satana ha chiesto di vagliare la sua Chiesa e comunque sia quello che succede serve per differenziare per far vedere chi è fedele veramente al Signore non solo a chiacchiere praticamente non solo la domenica quando si va al culto ma in tutta la sua vita quindi ci deve essere qualcosa che distingue il grano dalla pula quindi se un po' di vento ti porta via se un po' di vento ti porta via sei pula non sei certamente il grano il grano andrà nel granaio di Dio ben conservato la pula se ne andrà che sono gli empi rappresentano tutta quella parte la pula rappresenta tutta quella parte degli empi e di quelle persone che comunque saranno bruciate con il fuoco inestinguibile come abbiamo letto il fuoco della genna in altre parole il fuoco dello stagno di fuoco e di zolfo questo era il messaggio fratelli e sorelle mantenetevi fermi nella fede fino alla fine perché badate bene una prova superata dura soprattutto come questa vi fortificherà vi renderà più forti e anche gli altri vedranno vi vedranno anche con occhi diversi perché voi avrete resistito alla prova mentre altri sono caduti a Dio siano la gloria l'onore e la lode nei secoli dei secoli amèn grazie a tutti